Ma come che è partita? Napoli-Roma, Antonio, ma non lo segui il calcio? No, non sono tifoso. Guarda l'arbitro, annulla il gol della Roma. Ma... Ma... Allora sei tifoso. Sono cresciuto in curva B, tutto. O Napoli si mangiò il cuore. Poi questi colombiani si sono incazzati. Tengo 50 kilos di cocaina purissima. Non lo so, forse ho giocato troppo a ribasso. Un euro. Un euro? Ma con gli stranieri si fa così, eh? Lo sanno tutti. Cerco questo sole di questa... La storia della mia famiglia non è riguardo come morire. È riguardo come viviamo. Fa l'impossibile per salvare la donna che ama. E il mio marito non è un uomo qualsiasi. È un uomo che rascoste. È un uomo che non è uno. Un uomo che non è l'amuse. Non ho solo una storia. È un uomo che non è una storia. Era un uomo che abbiamo colte. Un e-oci di avermi arrivato il giorno. Grazie a tutti.